e benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa e vangelo spero che tutto sia visibile torniamo in diretta qui su facebook dopo l'interruzione dovuta all'ennesima censura la prima arrivare in diretta è barbara moi insieme a francesca patuzzi e gloria callarelli le dron donne del popolo famiglia sono le prime ad arrivare alessandra tumino quarta posizione cinza gioia la quinta finalmente fabbio ceseri e giovanni barbaro a difendere anche la posizione dei maschietti saluto anche piera giacometti silvana scuccia i tanti che sono proprio al primo minuto di trasmissione già presenti qui grazie anche alex zino finori per il lavoro straordinario che fa anche con le grafiche roberto mura che sta organizzato la giornata di pisa per la presentazione di capiamo moriamo carmen benevento paolo ruotolo marco pennetti del pdf dell'umbria che ha appena accolto il nostro coordinatore nazionale nicola di matteo una bella cena di natale ieri romana cordova mauro turini l'anima del pdf di riolo terme nostro picco di consensi con oltre il 14 per cento massimo cucciolotti antonella bagno federico pieroni manuela miraglia siamo tanti già questa mattina c'è anche silvia lucchetti fratello antonio iannacone che un po che non si trovava gli diamo un saluto molto caloroso e allora con simonetta tutti e tutti gli amici che sono arrivati alla diretta vi ricordo che per far conoscere il fatto che siamo in diretta abbiamo bisogno di un mi piace alla diretta stessa fate il vostro mi piace alla diretta abbiamo bisogno che la diretta sia condivisa sul vostro profilo e invitiate direttamente i vostri amici sia via messenger che via whatsapp che attraverso tutti gli strumenti c'è anche invita amici direttamente alla diretta per fargli arrivare qui durante questa puntata che ve lo dico è particolarmente rilevante oltre a essere la prima che facciamo qui su facebook dopo la fine del bavaglio e non sappiamo fin quando riusciremo ad averlo questo strumento quindi facciamo sì che più persone possibili possano arrivare saluto lucia toniolo rita venditti anneccelli valerio guido altieri monica vitali susan demez vittoria polacci carmela cutolo e dunque siamo in tanti ma è molto importante soprattutto che facciamo questo lavoro di condivisione sui nostri profili e di invito diretto ai nostri amici a partecipare alla diretta con lo strumento invita amici che abbiamo qui su facebook o anche semplicemente dicendo ai nostri amici su messenger su whatsapp che la diretta è in corso buon lunedì ci dice claudia brignoli c'è anche laura terrana reduce appunto dalla cena che ho appena citato con gli amici del pdf umbria costanza arriconi barbara potignani allora susan demez giustamente dice chissà quanto dura stavolta la possibilità di parlare in diretta qui su facebook è arrivato anche alessandra mondelli da quel di borgomanero un saluto cara alessandra ha mandato alessandra anche il curriculum per la candidatura e voglio già dirle che sarà nostra candidata su quel territorio saluto andrew clemens dall'australia cristian zuccarini vittoria bolacci invece sarà nostra candidata donne protagoniste su nord della toscana giovanna arminio in sicilia insomma abbiamo veramente una grandissimo numero di donne coraggiose pronte a essere rappresentanti del popolo della famiglia e arrivare chi lo sa fino al parlamento della repubblica c'è anche vicente schiano di ischia ma la miraglia ci informa che non c'è stata nessuna notifica della diretta via facebook e quindi ci dobbiamo arrangiare tra noi c'è anche paul friman un abbraccio buona giornata e buona novena c'è franco brindisi c'è maria pia cardinale vi chiedo dunque visto che alcuni dicono che non c'è stata la notifica di fare voi i notificanti fate sapere a tutti gli amici del popolo la famiglia che la diretta di oggi è in corso siamo tornati su facebook dopo due mesi pensate due mesi che non riusciamo a fare stampa e vangelo su facebook per la doppia censura che abbiamo subito è arrivato anche giovanni fiori un altro protagonista della battaglia elettorale prossima come candidato nell'area di fiumicino ostia perché ho visto il collegio comprende anche fiumicino vittorio pestillo oggi mi segue da colonia immagino in germania e non in uruguay c'è anche colonia del sagramento in uruguay saluto maria pia cardinale flavio rozza danilo leonardi andrea iannone che chiede non eri a dieta no non ero a dieta non ho proclamato alcuna dieta per carità anzi bisogna essere sempre più visibili saluto felice dendice norma alfano marimar e tutti coloro che ci daranno una mano a far arrivare la diretta di oggi anche corrado salonia marco l'angellotti luisa ruotolo angela umbriano da modena per far arrivare la diretta di oggi a tutte le persone mi ricordo invita amici è lo strumento che adesso dire a tutti la diretta è in corso di da tutti i vostri amici saluto anche cristina pacini da prato mario gambuli e corrado mi chiede cos'è successo ai capelli e c'è un'onda all'andrea rossi potrei definirla un'onda a salire all'andrea rossi pasquale mi saluta da ercolano pasquale oliviero un saluto anche da parte mia andiamo allora la lettura del vangelo del giorno un vangelo particolarmente forte perché il primo capitolo di del vangelo di matteo e siamo nella scena del natale ecco come avvenne la nascita di gesù cristo sua madre maria essendo promessa sposa di giuseppe prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello spirito santo giuseppe suo sposo che era giusto e non voleva ripudiarla decise di licenziarla in segreto mentre però stava pensando a queste cose ecco che gli apparve in sogno un angelo del signore e gli disse giuseppe figlio di davide non temere di prendere con te maria tua sposa perché quel che è generato in lei viene dallo spirito santo essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai gesù e gli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal signore per mezzo del profeta ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato emmanuele che significa dio con noi destatosi dal sonno gesù gesù giuseppe e fece come gli aveva ordinato l'angelo del signore e prese con sé la sua sposa questa è la parola del signore di oggi è il prodromo diciamo così alla festa del natale che ci prepariamo appunto a celebrare proprio questa settimana domenica prossima sarà la vigilia di natale domenica prossima la notte andremo alla messa per celebrare appunto la nascita di gesù la vita la vita oggi parliamo di angelo del signore lo vedete l'angelo alle mie spalle che compare sempre un po come timbro di stampa evangelo la vita il signore che è vita e oggi è particolarmente importante questa pagina una pagina si collega natale 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 che è vita perché ci troviamo a dover parlare di morte invece fregando se di qualsiasi clima natalizio ieri fabbio fazio nella principale trasmissione di punta e più costosa trasmissione di punta di rai 1 ha ospitato emma bonino intanto saluto don francesco colamonaco marco fasulo protagonista del gruppo preghiera popolo della famiglia prisca vegni annalisa zeni danilo leonardi allora leonardi l'altro lavora in rai sa cosa significa ospitare nella prima serata di rai 1 un esponente politico come emma bonino che fa la propaganda a questa legge sul bio testamento non solo la fa senza alcun contraddittorio non solo la fa con fabbio fazio che srodola il tappeto rosso non solo tutto questo avviene davanti a milioni e milioni di telespettatori ripeto senza che nessuno possa dire cos'è veramente questa legge sul cosiddetta fine vita legge sul fine vita vuol dire la morte il fine vita è la morte sia chiaro quella che loro chiamano dolce ma dolce non è dolce non è perché la vita che vogliono interrompere è la vita del sofferente e il mezzo con cui la vogliono interrompere è la sospensione della nutrizione e dell'idratazione sono rimasto molto spaventato leggendo già ieri e l'ho pubblicato su facebook un giornale del veneto che proclamava come a seguito di questa nuova legge una ragazza che si chiama elisa potrà essere uccisa dopo 12 anni di coma utilizzando appunto il metodo della disidratazione cioè del togliere l'acqua al malato sono davvero stupefatto stupefatto che ci sia un modo così univoco e così da pensiero unico così orwelliano di proporre questa questione il tema della vicenda biotestamento è un tema in cui bisogna parlare dei dettagli perché vi dicono che è una grande istanza di libertà che è una conquista della libertà dell'autodeterminazione emma bonino va da fabbio fazio e alla fine tutta la pubblicità al bio testamento tira su un simbolo grande così che copre tutto il suo corpo ed è il simbolo delle elezioni della nuova lista di emma bonino emma bonino non si candida con i radicali radicali sono spaccati in mille rivoli quindi non ci sarà la lista della della dei radicali c'è la lista che si chiama più europa con la scritta bonino sotto e loro devono far conoscere il loro simbolo quindi cosa si fa matteo renzi al controllo della rai questa lista serve alla coalizione di matteo renzi enorme simbolo grande così in diretta sul rai 1 prima la pubblicità al bio testamento poi il simbolo grande così ed è ma bonino che dice mi raccomando votatemi d'accordo questo è farvi capire come funziona il servizio pubblico radio televisivo nessun tipo di contraddittorio enorme simbolo tirato su da emma bonino che dice votatemi poi vedete adesso il piccolo simbolo del popolo la famiglia che porto qui che ogni tanto cerco di portare anche in televisione se portassi un simbolo grande così non mi farebbero più sedere in nessuna trasmissione televisiva ieri sera è andata così prima serata di rai 1 vuol dire circa 4 milioni di persone indottrinate senza possibilità di contraddittorio io dico sono davvero incredibile cioè le parole dice ripete alex zino finori giustamente vergogna sono le parole chiare vergogna il minimo che possiamo dire ora cerchiamo di capire però una cosa come come funziona questo metodo funziona che loro hanno accesso agli strumenti di comunicazione e fanno vedere un simbolo elettorale perché perché la partita decisiva su queste tematiche si combatte sul piano delle prossime elezioni politiche dobbiamo averlo chiaro hanno fatto solo un anticipo di ciò che accadrà perché ve lo spiego come funziona la morte per disidratazione è una morte atroce è una morte atroce cioè chi dice dovrei mettere il simbolo sul lato opposto perché questo è coperto dalla chat simbolo non è importante che lo porti io tutto il mondo sa che io sono il popolo della famiglia è importante che lo abbiate voi il simbolo al posto della vostra foto profilo che mettiate il simbolo in ogni luogo della vostra comunicazione perché noi non abbiamo raiuno noi abbiamo solo una forza che oggi a vedere questa puntata ci saranno alla fine più di diecimila persone la puntata che ho fatto non di stampa evangelo ma di ritorno dopo la il bavaglio qualche sera fa ha fatto tredicimila persone ora noi non abbiamo quattro milioni di telespettatori regalati da fazio abbiamo però queste tredicimila persone se tredicimila persone riescono a fare antenna ripetitrice del simbolo che non importa che lo porto io lo dovete portare voi è vostro adesso il lavoro ovviamente anche mio anche prima di natale io farò cinque conferenze oggi leggo da giampiero bonfanti che gianfranco amato è a sesto san giovanni io sarò a bergamo a palermo a messina a catania ad avola tutto questo prima del 22 dicembre per farvi capire che tipo di che tipo di vita faccio ora il nostro lavoro è prendere questo simbolo e far diventare che è l'unica alternativa alla proposta di morte di emma bonino emma bonino ha già detto poiché la morte per disidratazione vedrete farà scandalo perché è una morte vergognosa pesantissima non c'è nulla di peggiore che si possa fare a un caso a una persona umana farla morire di sete non c'è niente di peggio per favore condividete questa diretta ovunque sui vostri profili facebook nulla di peggio si può fare a un essere umano se non farla morire di sete elisa piuttosto che il one in glaro ho recuperato oggi il one in glaro la relazione di 133 pagine intitolata relazione di consulenza tecnica medico legale che rappresenta sostanzialmente l'esame autoptico della morte di il one in glaro l'unico caso in italia in cui è stata tolta l'idratazione per uccidere una persona ed è una agonia terribile terribile che dura tre giorni in cui eluana grida in cui eluana si conficca le unghie nella carne perché anche se sei in stato di incoscienza il dato della morte per sete ti fa arrivare inevitabilmente a una sofferenza che anche in stato di incoscienza percepisci e allora cosa faranno ti diranno che il trattamento della disidratazione è un trattamento disumano e lo è per dirti allora no dobbiamo fare il pentobarbital come dice bene Danilo Leonardi il passaggio successivo sarà dire eutanasia attiva perché è disumano è disumano quello che si fa ai pazienti con la disidratazione e allora allora peggio allora facciamo l'idratazione attiva allora cari amici o adesso noi ci rendiamo conto che questa è una questione di vita o di morte che il popolo famiglia ha questa responsabilità di essere la piattaforma politica uguale e contraria a quella di Emma Bonino Emma Bonino va a Rai 1 con un simbolo grande così noi non abbiamo nessun'altra forza se non 12 13 mila persone che oggi vedranno questa puntata che possono diventare ripetitori del simbolo del popolo della famiglia ed è l'unica contrapposizione possibile oppure pensate che sia Giorgia Meloni la contrapposizione possibile che neanche era in aula quando si votava il biotestamento non era in aula 37 voti ha preso il no al biotestamento alla camera e Giorgia Meloni non era in aula allora noi dobbiamo capirlo quello l'unica forza politica realmente alternativa alla proposta di morte che è stata attuata nella maniera più vergognosa con questa legge ignobile che ucciderà le persone per disidratazione e ci costringerà a dover fare biotestamento io l'ho scritto anche in un post che trovate sul mio profilo ho dovuto dettare le mie condizioni disposizioni anticipate di trattamento perché mi sono reso conto leggendo la legge che non posso fare una campagna per non far firmare le dat le dovremo firmare le disposizioni anticipate di trattamento proprio per dire che non vogliamo morire disidratati non vogliamo morire con la nutrizione negata ovviamente ho detto non voglio morire con la nutrizione di trattazione negata cosa arrivata una valanga di commenti simpatici sulla mia stazza morirà fra 40 anni signori il tema è questo qui loro oggi propongono la morte per disidratazione sospesa che è una morte terrificante terrificante e solo firmando il biotestamento in cui neghiamo il consenso a questa pratica noi ci salveremo la pelle da questo orrore poi quando verranno praticati una serie di uccisioni tramite disidratazione si vedrà quanto è terrificante uccidere anche una persona in coma vegetativo con la disidratazione diranno beh allora è meglio diranno allora è più umano il pentobarbital e useranno questo tipo d'argomento con questo argomento loro tenteranno di far passare l'eutanasia attiva o addirittura il suicidio assistito con il metodo svizzero sì abbiamo avuto un blocco di 30 secondi adesso siamo ripartiti apposta per questo poiché siamo stati oggetti di un blocco fate ripartire la diretta ora è ripartita la notizia dell'assenza di giorgia meloni al voto sul biotestamento è contenuta in un articolo del quotidiano la croce che uscirà domani a firma giuseppe brienza giuseppe brienza ha trascritto questi fatti e domani saranno appunto in prima pagina sul quotidiano la croce sostenete in questa settimana di natale date una mano agli strumenti fondamentali che servono a far crescere consapevolezza su queste tematiche siamo rimasti solo noi quindi per favore fate leggere il quotidiano la croce che domani conterrà questo articolo di giuseppe brienza abbonatevi fate questo regalo regalatelo a voi stessi e regalatelo ai vostri amici l'abbonamento al quotidiano la croce www.lacroce quotidiano.it slash abbonarsi trattino ora da quel marketplace potete anche acquistare o capiamo moriamo il libro che sto presentando in giro per l'italia rappresenta la proposta politica del popolo della famiglia e tesserarvi al popolo della famiglia intanto arrivata paola gans a cui ho dedicato il lavoro fatto ieri sulla povera elisa la vicenda di elisa giorgia meloni è alla camera infatti alla camera non era presente al voto i 37 voti contrari al mio testamento alla camera non hanno il nome di giorgia meloni i 71 al senato ripeto su mille mille aventi diritto i voti sono stati 37 contrari alla camera 71 contrari al senato tenete presente questa è la situazione di un cento destra ambiguo che non ha fatto opposizione se avesse fatto opposizione ostruzionistica la legge non sarebbe passata hanno deciso di dare il via libera a questa legge perché molte aree del cento destra dall'eghista zaia a forza italia che ha dato libertà di coscienza la meloni che non era presente in aula sono sostanzialmente favorevoli a questa legge ora voi capite l'unica opzione alternativa alla posizione di emma bonino è il popolo della famiglia siamo l'unica alternativa sulla legge cirinna sulla famiglia sulla vita su tutta la piattaforma che è stata indicata ha fatto la votazione di voto contrario ma non ha votato contro paola io non dico mai cosa è caso non c'è il voto contrario di giorgia meloni sulla bio testamento è assente al momento del voto è arrivato anche marco da gorizia lo saluto e come dice bene mauro chialastri hanno fatto come ponzio pilato giuseppe brienza cita il voto appunto del 20 aprile meloni assente la russa e rampelli in missione il problema è questo c'è solo un'alternativa l'alternativa si chiama popolo della famiglia il nostro problema dobbiamo averlo chiaro il problema del popolo della famiglia che non ci danno rai uno per far vedere come ha fatto emma bonino ieri sera il simbolo grande così a 4 milioni di italiani il nostro problema è che questo simbolo il simbolo del popolo della famiglia lo vedete eccolo qua che io porto anche nelle trasmissioni televisive piccolo perché se lo portassi grandi così non mi farebbero sedere questo simbolo è ignoto agli italiani nel segmento di popolazione dove questo simbolo è noto noi conquistiamo consensi quindi il nostro problema oggi è solo farci conoscere il problema di farci conoscere poiché non ci danno rai uno è tutto sulle nostre spalle noi abbiamo la fortuna la fortuna di avere molte decine di migliaia di militanti oggi sul territorio nazionale dalla sicilia vedo giovanna arminio fino al venero al piemonte e alla lombardia al trentino alto adice tranzando per tutte le regioni del centro le isole ora noi dobbiamo capire che siamo noi stessi con le nostre persone fisicamente a dover essere il dei dei tazzebau eventi in cui questo simbolo venga fatto conoscere e si chiede a tutti che sono convinti che c'è da fare una battaglia contro emma bonino e contro quella cultura di morte che bisogna fare il voto sul simbolo del popolo la famiglia la scheda sarà molto semplice camera e senato i nomi sono tutti prestampati bisogna solo fare una croce sul simbolo del popolo della famiglia un milione di croci sul simbolo del popolo la famiglia cambiano radicalmente la storia d'italia e significherà che non è vero che tutti gli italiani sono unanimi come sembra dalla televisione dai giornali a favore del biotestamento serve un lavoro radicale ritaricci non abbiamo tolto nessun commento tu puoi scrivere sempre quello che vuoi l'ospedale l'acqua te la tolgono se lo decidi tu allora stiamo parlando della storia di elisa paola gans può testimoniarla eccola qui elisa non ha detto che vuole morire per disidratazione ma il suo tutore legale da 12 anni è una persona di famiglia che ha detto ai giornali finalmente elisa potrà morire non l'ha deciso elisa d'accordo non l'ha deciso elisa lo decidirà il suo tutore legale cioè colui che da 12 anni ha elisa in cura questo è il tema fondamentale mario darà una scrollata ai pisani assicura roberto mura verrò a pisa a dare battaglia come in tutti gli altri territori d'italia c'è chi dice a chi quelli che dico di votarvi dicono che sono voti persi non ce la si fa non capiscono proprio e parlo di cattolici allora non parliamo solo ai cattolici parliamo a tutti vedrete che noi parlando a tutti è ovvio che quelli che vogliono già votare centrodestra voteranno centrodestra così come le altre coalizioni ma noi dobbiamo far capire che come la bonino con un suo 1 2 piccolissima percentuale alla fine infettato col suo virus tutto il sistema politico italiano ora è necessario che i cattolici organizzati attorno ai principi non negoziabili con l'1 2 il 3 o il 4 per cento diventino il virus antidoto cioè l'antidoto al veleno che stanno inoculando nel sistema politico italiano e guardate che è così l'hanno già detto non ci basta la legge sul biotestamento vogliamo l'eutanasia legale non ci basta la legge sull'unione gay vogliamo il matrimonio qualitario e l'utero in affitto legale non ci basta la cannabis per uso terapeutico vogliamo le droghe libere lo hanno già detto e hanno approvato solo il primo tempo solo il primo tempo di questa partita e il primo tempo è terrificante già esso lo ripeto la legge di innale legge sul divorzio breve la legge sul biotestamento la legge sulla cannabis terapeutica il passaggio successivo sarà il completamento di questo percorso hanno già tolto le obiezioni di coscienza ai medici sulle datte la toglieranno pure sull'aborto toglieranno le obiezioni di coscienza ai farmacisti per la vendita delle pillole abortive è inevitabilmente già scritto già tutto scritto a meno che non ci sia una risposta di popolo in una direzione ostinata e contraria che è quella rappresentata nel popolo della famiglia non c'è alternativa a questo non c'è alternativa come ha detto ieri alle iene marco cappato le datte sono solo il primo passo allora o fermiamo questi primi passi adesso con il voto al popolo della famiglia che passa attraverso il nostro impegno personale ai 10.000 12.000 che seguiranno questa partita oggi questa discussione di oggi questa puntata di stampa e vangelo ricordo il vangelo di oggi che vangelo che parla di vita che parla di nascita che parla della nascita di gesù che vincola noi stessi a un'idea di vita forte che va a contrastare questo vangelo di morte che è un'annunciazione necrofila continuamente compiuta a reti unificate giornali unificati se vogliamo fare qualcosa l'unica strada che possiamo compiere è quella del voto al popolo della famiglia e allora però dipende da noi ripeto a noi non ci danno rai uno per far vedere il simbolo grosso così noi lo facciamo vedere con le nostre piccole iniziative ma tutti noi dobbiamo avere il simbolo del popolo della famiglia come fotoprofilo tutti noi dobbiamo far sapere che c'è questa alternativa con chi vi schierate sarà la prima domanda con nessuno siamo autonomi cerca il nostro simbolo sulla scheda e votalo questo è quello che dobbiamo fare abbiamo pochi giorni amici miei si vota il 4 di marzo io spero che vi sia chiaro questo elemento si vota il 4 di marzo oggi è 18 di dicembre abbiamo 75 giorni 75 giorni per fare tutto ci vediamo il 30 all'assemblea nazionale avviamo questa macchina dall 8 di gennaio raccogliamo le liste raccogliamo le firme sulle liste a camera e senato facciamo un lavoro straordinario di raccolta firme che sia la prima fase della nostra campagna elettorale e poi un lavoro test proprio casa per casa a dire l'unica strada se vuoi fermare la bonino la cirinna cappato george soros open society foundation la cultura di morte la cultura contro la famiglia naturale hai una sola strada il voto al popolo la famiglia che stravolga gli equilibri per come li hanno immaginati e confezionati che strumenti abbiamo per parlare con la gente niente la strada la strada bisogna andare per strada sul territorio come dice nicola di matteo che ieri è stato in umbria per fare questo lavoro così come sarò io a a bergamo dopo domani così come oggi c'è gianfranco amato a stesso san giovanni così come c'è mirco de carli in giro non so anche dove sa oggi io poi sarò a palermo a messina a catania tavola alicia mi chiede a bergamo giorno 20 dicembre dove sarai a che ora chiedi a massimo dal passo che trovi qui su facebook chiedi a lui o vai sulla sua pagina e troverai la locandina con il luogo preciso mi pare alle 20 e 45 l'ora mentre il luogo sinceramente non lo so però lo trovate lì allora è importantissimo intanto alla presenza il 30 di dicembre a via cavur 50a centro congressi cavur perché lì diamo in indicazioni su come andare avanti su questa partita elettorale il 27 sarà la chiusura delle gamere con lo scioglimento avremo anche delle notizie certe sul numero di firme da raccogliere sulla modulistica quindi faremo tutto il lavoro che occorre fare sarò a messina sì carmen sarò a messina mi pare proprio il 21 alle ore 17 se non sbaglio tutti a fare i gazebo come dice giampiero bonfanti tutti a incontrare le persone ma soprattutto lo dico anche a giampiero bonfanti non vedo il simbolo del popolo la famiglia sul suo fotoprofilo tutti noi dobbiamo avere un simbolo anche magari dentro la nostra fotografia ma un simbolo io ce l'ho non ho la mia faccia ho il simbolo del popolo la famiglia come fotoprofilo in maniera che tutti quanti sappiano che la nostra bandiera è issata lo dico a vittoria polacci a federico pieroni a corrado salonia tutti con il simbolo del popolo la famiglia come fotoprofilo è il modo per cui ci chiedono ma che cos'è questo simbolo e possiamo dire possiamo dire una cosa semplice siamo una proposta politica alternativa alla cultura di morte alternativa alla cultura dell'aborto dell'eutanasia della famiglia omosessuale e infeconda all'alternativa alla proposte folli di questa legislatura siamo una proposta di ispirazione cristiana l'unica proposta dichiaratamente di ispirazione cristiana ispirata dalla dottrina sociale della chiesa che si candida alle prossime elezioni ora dobbiamo assolutamente fare questo lavoro giampiero boffanti ce l'ho su facebook non bisogna averlo su facebook bisogna averlo come fotoprofilo perché avendo la foto profilo come fotoprofilo si vede il simbolo il nostro problema che il 95 per cento delle persone in italia non sa non sa come ci chiamiamo non sa chi siamo non sa che ci candidiamo alle elezioni non sa qual è il nostro simbolo è questa la nostra difficoltà noi adesso dobbiamo far sì che tutti sappiano che alle elezioni politiche del 2018 c'è un movimento che si chiama popola famiglia che ha questo simbolo che può essere votato per andare in alternativa alle politiche di morte dell'attuale parlamento cercate anche nuovi amici andate al di là delle persone nostre soli del nostro ambiente cerchiamo di parlare a più persone possibili parlate ai media locali mi raccomando fate iniziative dichiarate parlate ai media locali come popolo della famiglia mandate comunicati ai giornali locali alle radio locali alle tv locali in maniera che vi riconoscano e parlino di voi è fondamentale questo lavoro adesso l'unica alternativa possibile alla cultura di morte che ieri avete visto propagandata da rai 1 con un simbolo elettorale grosso così in prima serata davanti a fabio fazio e fare questo lavoro faticosissimo ma determinante faticosissimo ma determinante stare per strada e far conoscere anche in questi luoghi sono i luoghi virtuali ma anche per strada che esiste questa alternativa si può votare popolo della famiglia si può votare ed è l'alternativa possibile alla cultura di amma bonino che è stata purtroppo cultura vincente sulla sulla legislatura che si sta appena compiendo hanno vinto loro con l'1 2 per cento dei voti noi con l'1 2 per cento dei voti dobbiamo farlo trasformare in tre e farlo diventare il nostro pass d'accesso alle prossime alla prossima legislatura per bloccare la pianificazione della cultura di morte che hanno in testa i radicali e purtroppo vaste aree del centro destra e del centro sinistra dice bene chiara casoli anche su whatsapp usate il simbolo del popolo della famiglia come come vostra foto profilo ovunque voi siate mettete questo simbolo perché questo simbolo è la modalità con cui noi tutti ci riconosciamo e con la modalità con cui all'interno di facebook tante milioni di persone possono sapere che c'è il simbolo del popolo della famiglia anche a lucca si può votare si potrà votare in ogni città d'italia cara ilaria perché sono elezioni politiche quindi si votano dappertutto si vota dal trentino alto adige alla sicilia e noi dobbiamo assolutamente centrare questo obiettivo prendere più voti possibili anche a lucca lo dico a ilaria giurlani che me lo chiede dobbiamo saper evidentemente con chiarezza far conoscere questo simbolo ovunque la presentazione di o capiamo moriamo a messina alle ore 17 all'oratorio san paolino vesco via nazionale 186 mi ricorda alex zino finori grazie dell'informazione saluto paola belletti che è arrivata anche lei a questa diretta gianluca baldini ci candidiamo anche la regione lazio certo ci candidiamo anche alla regione lazio saluto lorenzo damiano daniela giampieri dice per favore scrivici almeno 10 punti fondamentali da poter condividere nei social per far capire cosa vogliamo ho scritto un libro di 207 pagine amici miei che circola dappertutto ormai estercola dice che ormai puntiamo al 4 per cento c'ha ragione fate conoscere quel libro magari compratelo cercatelo in fotocopia da chi ce l'ha già dice un capitolo che si chiama una proposta per l'italia con con 10 ma con 26 punti sintetizzeremo poi comunque un programma in 10 punti che sarà che emergerà dalla lei dalla assemblea nazionale faremo questo lavoro e ci lanceremo evidentemente per far conoscere tutto questo a tutta italia c'è anche chi cita l'iniziativa del 15 gennaio ad apriglia nella sala parrocchiale maria madre della chiesa sempre presentazione di o capiamo o moriamo ad avola invece 22 dicembre c'è alle 16 e 30 al centro giovanile di via mattarella l'iniziativa ad avola insomma ci hanno tante tante iniziative in cui io personalmente verrò a far conoscere il popolo della famiglia poi ci sarà l'iniziativa c'è l'iniziativa in corso ovunque di gianfranca amato nicola di matteo appena stato anche in umbia verrà con me in sicilia in questo tour che farò bene le quattro città siciliane c'è mirco de carli anche lui in giro per l'italia insomma c'è la necessità adesso però di renderci conto che dobbiamo semplicemente fare un lavoro di conoscenza del simbolo del popolo della famiglia marimar dice non trovo il libro in giro provate a comprarlo online ma alla fine mi hanno ridato i soldi vieni sul marketplace della croce lì lo trovi sicuramente www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora lì potete comprare o capiamo moriamo anche voglio la mamma se ne avete necessità abbonarvi al quotidiano la croce regalare un abbonamento al quotidiano la croce per natale e anche tesserarvi al popolo della famiglia quindi invece di andare marimar su amazon vai sulla marketplace della croce www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora c'è anche lo dico a stefania parma la pagina militanzadigitale.org per avere informazioni sulle tecniche diciamo così da web da combattimento web enrica da sondrio a letto e divulgato capiamo moriamo grazie ad enrica corradini facciamo questo lavoro capillare soprattutto amici far conoscere insieme alle nostre proposte il simbolo del popolo della famiglia dobbiamo far conoscere questo simbolo non abbiamo alternativa a questo strumento la croce sul simbolo è la nostra salvezza un milione di croci è la salvezza dell'italia quindi dobbiamo fare questo lavoro maniacalmente in questi 75 giorni avere in testa davvero solo questo obiettivo trovarci in tanti il 30 di dicembre all'assemblea nazionale popolo della famiglia centro congressi cavur via cavur 50a poi io andrò sempre in giro paolo campisi lo saluto perché ci vedremo a rimini il 12 gennaio per la presentazione di o capiamo o moriamo il lavoro è questo è arrivato anche mario sberna l'onorevole mario sberna che non si ricandiderà alle prossime elezioni lo saluto con un abbraccio e con simpatia questa legislatura è stata davvero una legislatura pesantissima pesantissima l'approvazione di tutte queste leggi è un'approvazione grave è una posizione che ci impone una risposta politica la risposta politica dei cattolici non c'è stata diciamoci la verità tardivo è stato l'intervento della conferenza episcopale italiana che anche sul bio testamento non si è resa conto della gravità della norma finché la norma non è stata approvata la battaglia avrebbe dovuto svolgersi prima in maniera molto netta molto chiara mettendo in campo gli strumenti della comunicazione invece si è deciso come sugli unioni civili come sul divorzio breve come sulla cannabis terapeutica di non dire nulla di fare assoluto silenzio fare un po di cinguettio alla fine quando ormai la partita era chiusa la partita sul terreno della guerra politica non si fanno così si fa guerra politica e il popolo della famiglia farà questo farà guerra politica perché è necessario per salvare questo paese noi non lo giudichiamo ma lo vogliamo salvare non accettiamo che questo primo tempo di norme pessime diventi un secondo tempo di norme tombali che condurrebbero l'Italia negli inferi noi dobbiamo come popolo della famiglia abbiamo questa responsabilità e assolutamente dobbiamo costruire le condizioni per l'alternativa politica l'alternativa politica passa solamente attraverso la presenza autonoma dei cattolici delle persone di buona volontà che sono contrarie a quelle politiche di morte sono contrarie alla politica contro la famiglia l'alternativa c'è si chiama popolo della famiglia questo simbolo da far conoscere e da far votare in tutta Italia il popolo della famiglia non c'è alternativa a quest'atto lo dico nel giorno in cui il Vangelo ci ricorda l'invito alla vita alla grandezza della vita attraverso la nascita di nostro Signore Gesù Cristo delusione e sofferenza per il comportamento della conferenza episcopale italiana denuncia Anna Bartorelli intanto saluto anche Marco Scicchitano che è arrivato alla diretta saluto Anna Ciappa stiamo consegnando i nostri figli all'inferno è verissimo Rosa e l'onora degli esposti ciao Mario ciao popolo una preghiera per stasera debutto del popolo della famiglia Sesto San Giovanni con Gianfranco Amato assolutamente non più di una preghiera il sostegno assoluto al nostro segretario nazionale a tutti voi saluto Giuseppe Filippone saluto Antonella Bagno che parla di presenza incazzata dei cattolici e delle persone di buona volontà mi piace mi piace come espressione Alessandra Tumino dice siamo grandi saluto anche Noemi Galoppi Anna Scapin dice ciao Mario ho letto il tuo libro è molto chiaro e illuminante non capisce chi non vuole capire sono troppi chiari fatti concreti che descrivi bene grazie Anna io ho fatto questo lavoro chiudendomi tre mesi punto per mettere tutti i fatti incontrovertibili 207 pagine di fatti dati numeri e di impegni di alternativa a quello che sta avvenendo chi legge o capiamo moriamo trova tutte le risposte anche le risposte da dare quando si trova in un contraddittorio pubblico attorno ai temi che ci siamo diciamo sì intestati come battaglia politica saluto anche Giuseppe Focone che dice il 3% sarà solo l'inizio saluto Federico Pieroni oggi penso a mio papà che avrebbe compiuto gli anni e pensando a lui non posso non voler lottare ognuno di noi ha un pensiero anche mio papà è una ragione per attraverso la quale ho capito quanto fosse determinante fare questa battaglia per la vita l'ho fatta proprio a partire la scelta di mio papà di venire a firmare le liste del popolo e della famiglia tre giorni prima che morisse il 23 aprile l'ha firmata il 26 aprile è morto proprio in virtù di questa esperienza personale mi è chiarissimo e anche di altre che descrivo anche in capiamo moriamo mi è chiarissimo che la battaglia va fatta ora e va fatta in questi termini anche contro Emma Bonino che riesce a andare da Fabio Fazio con un simbolo del suo partito grande così per farci pubblicità noi non abbiamo queste possibilità non le avremo mai abbiamo però 10.000 12.000 13.000 antenne ripetetici di un messaggio che è questo allora vi chiedo un mi piace a questa diretta vi chiedo di condividerla sul vostro profilo mettete il condividi sul vostro profilo e spiegate perché è importante vedere questa diretta spiegate perché è importante costruire le condizioni alternative alla vittoria di Emma Bonino della cultura di morte contro la famiglia in questo paese è a voi che adesso tocca il compito più complesso non possiamo lamentarci dire alla Bonino Kato loro fanno il loro lavoro noi stiamo facendo abbastanza il nostro questo è il punto di domanda noi ci impegniamo sul territorio noi ci facciamo vedere noi facciamo vedere il nostro simbolo ci stiamo sforzando come si sono sforzati loro per decenni per far vincere i loro principi allora loro lo fanno noi facciamo i bravi ragazzi che si lamentano e basta o vogliamo costruire un'alternativa reale non abbiamo bisogno di volontari che ci aiutino siamo noi volontari ognuno di noi è un volontario che va in battaglia lo dico a Giovanni Fiori simpaticamente si fa anche da soli guardate lì i raduni radicali ci sono sempre una due o tre persone anche i banchetti del 5 stelle basta pure essere da soli per aprire un un gazebo per aprire un momento di incontro con le persone non troviamo scusa a noi stessi facciamo il massimo che possiamo fare prendiamo questi 75 giorni dice Antonio Brescia diamoci tempo ma non molto questo è il tempo eccolo qui il tempo 75 giorni per ottenere il lavoro migliore possibile risultato migliore possibile vittoria polacci vede un post tremendo posso mandartelo così mi aiuti a contrastarlo amici io devo dire mi mandate 10.000 messaggi al giorno io non riesco a rispondere a tutti dovete capire più andiamo avanti più tantissime persone mi scrivono quindi se vedete una cosa orrenda rispondete voi non mi scrivete a me dicendo come devo rispondere questo è un vizio che avete mi mandate 10.000 cose al giorno tramite mail tramite messager tramite whatsapp tramite tutto quello capite e io non ce la faccio ormai rispondere a tutti anche perché contemporaneamente devo fare mille cose oggi devo andare a pagare il teatro per il centro congressi cavur dare l'anticipo oggi devo preparare ed essere per il 2018 oggi devo andare fisicamente il lavoro per costruire un partito che sta in tutta Italia e stare dopo domani a Bergamo il giorno dopo a Palermo alle 8 di mattina la sera alle 20.45 a Bergamo la mattina alle 9 a Palermo poi alle 17 a Messina poi alle 21 a Catania poi il giorno dopo a Tavola vuol dire attraversare una vita che è folle quindi aiutatevi fra voi vedo Ester Corona che aiuta Vittoria comunicare tra voi parlatevi tra voi datevi una mano tra voi è un popolo questo è un popolo che è una rete siamo molte migliaia di persone dunque cerchiamo di darci una mano gli uni con gli altri ovviamente io cercherò sempre di dare un aiuto con queste dirette che durano un'ora con la trascrizione dei articoli che poi escono sul quotidiano La Croce con qualche volta i commenti su Facebook però rendetevi conto immaginate la vita che posso fare per reggere tutti i giorni questo tipo di ritmo Alessandra Mondelli nota già che la voce va giù perché se tu fai un'ora di monologo stasera altre due ore di monologo quando fai l'iniziativa la mattina dopo altre due ore di monologo inevitabilmente essendo tutta monologata e fatta di diaframma ecco tecnicamente questa attività la voce purtroppo va giù e allora come dice Noemi Galoppi cosa ti fai qui a parlare parla meno e fai di più sto qui a parlare perché qui riesco a parlare questa puntata sarà vista da 12.000 a 13.000 persone spero nell'arco delle 24 ore e dunque è importante il lavoro che si fa anche attraverso la pdf tv con tutti i tanti conduttori della pdf tv e tutte le nostre trasmissioni è importante il lavoro che si fa sul quotidiano La Croce perché il quotidiano La Croce fa l'elaborazione quotidiana dei temi è importante la presenza sul territorio pensate a Nicola Di Matteo che passa la domenica in Umbria a incontrare il pdf e l'Umbria pensate a lui che viene con me adesso in Sicilia si fa questo tour de force insieme a me poi quando io vado via lui continua lui va a Trapani pensate a Gianfranco Amato oggi a Sesto San Giovanni pensate a Mirko De Cali tutti i lavori che facciamo sono di incontro con le persone affinché poi il messaggio che arriva alle persone sia elaborato da una rete che è il popolo della famiglia che intrecciata costruisce le condizioni affinché ognuno possa fare un passo avanti nella sua militanza grazie a tutti voi per il lavoro che state svolgendo rendetevi conto di quanto sia straordinario e determinante vi ricordo un mi piace un ultimo mi piace a questa diretta cercate di far arrivare questa diretta sui vostri profili facebook con la condivisione condividi la diretta sul vostro profilo in maniera che le persone possano riconoscere gli argomenti che poi oggi sono stati trattati ricordate sempre che ora dobbiamo spiegare chi siete il popolo della famiglia cosa volete difendere la vita e la famiglia naturale con chi state da soli sulla scheda troverete la lista popolo della famiglia da soli perché dovrei sprecare il voto darlo a voi e non alle coalizioni maggiori con il popolo della famiglia non si spreca il voto perché è una legge elettorale proporzionale quindi ognuno vota per l'identità che è prossima a sé quindi non c'è nessuno spreco del voto non votiamo le coalizioni maggiori perché sono tutte ambigue dal punto di vista dei valori non ci rappresentano per questo si vota un simbolo autonomo che è quello della popolo della famiglia un milione di voti sul simbolo autonomo questo simbolo dobbiamo far conoscere la lacuna del nostro lavoro è che oggi ci conoscono solo forse 10 italiani su 100 il lavoro che dobbiamo svolgere è far conoscere questo simbolo a 100 italiani su 100 dovessimo ottenere questo risultato sicuramente il 3% dei consensi lo possiamo ottenere come si fa? si fa facendo circolare queste informazioni si fa leggendo la Croce Quotidiano si fa leggendo o capiamo moriamo che è il libro che contiene la proposta politica del popolo della famiglia lo si fa stando sul territorio organizzando gazebo incontrando persone facendo vedere il simbolo come dice Nicola Di Matteo annunciando la verità lo si fa con la testimonianza quotidiana in questi 75 giorni Anna Scapin dice attento alla salute Mario Lorenzo Fiorito dice siamo 133 in live pochini no no pochini per niente sono 133 ascolti contemporanei di questo istante ma sull'arco dei 45 minuti di trasmissione vedrete che questo istante avrà incrociato in vari altri istanti diverse migliaia di persone poche dirette vanno in tripla cifra su facebook caro Lorenzo quindi questo è un risultato importante siamo stati anche addirittura a 220 credo connessioni contemporanee durante la diretta di oggi ecco Mirko De Carli che sta per fare la conferenza stampa a Porto Sant'Elpidio quindi anche nelle marche lista alle amministrative del popolo famiglia e alle elezioni politiche dunque cresciamo in ogni territorio di questo paese continuiamo a fare questo lavoro facciamolo ovunque facciamoci conoscere con il nostro simbolo il simbolo del popolo famiglia il simbolo che conoscono purtroppo ancora in pochi ma che in questi 75 giorni dovrà essere conosciuto da tutti per fare cosa? Per contrapporci a quella Emma Bonino che va a Rai 1 con un simbolo grande così a fare la pubblicità della legge sulla morte con Fabio Fazio che annuisce e con le condizioni create purtroppo per gli ultimi della terra di morire in una maniera più atroce possibile cioè per fame e per sete per rispondere a tutto questo e far sì che questo non sia solo il primo tempo di un film dell'orrore che poi si chiuderebbe con un secondo tempo fatto di una tansia attiva di utero in affitto di obiezioni di coscienza cancellata anche per i medici antiabortisti allora per fare tutto questo noi dobbiamo sapere che serve il nostro impegno contrapporci a quel simbolo grande così con sopra scritta Emma Bonino che purtroppo è il vero vincitore di questa partita i candidati all'estero chiede Laura Quarta avremo anche i candidati all'estero struttureremo anche le liste dei candidati all'estero anzi se siete all'estero e vi volete candidare l'e-mail per le candidature è adinolfi.gmail.com è arrivato anche Massimo Brasiliani che saluto con un abbraccio l'unico voto utile come ripete Nicola Di Matteo è il voto al popolo della famiglia da Maria Di Nolfi una buona giornata a tutti ci ritroviamo domani con Stampe Vangelo grazie a tutti